Buonasera a tutti. Sono Roberto Santa, presidente dell'Associazione Arte di Bolzano e ideatore della manifestazione Occidente Verso Oriente, che intende divulgare e far conoscere la cultura, l'arte, la musica e la civiltà delle varie popolazioni del mondo. Da vari anni, con manifestazioni dal vivo e dal 2020 anche a distanza, organizza eventi, concerti, presentazioni di libri e conferenze. Queste ultime si avvalgono anche della consulenza del sociologo Adel Javar, docente in vari Atenei. Con questa manifestazione si è voluto fare un focus sull'America Latina e su Cina e Giappone. È per me un piacere ringraziare voi per la vostra presenza, il Gemeinschaft Centrum Maria Heim di Bolzano, l'Associazione Alla Stanza di Bolzano e chi ci sostiene economicamente, come l'Ufficio Educazione Permanente in Lingua Tedesca della provincia autonoma di Bolzano e la regione Trentino Alto Abige. Non mi resta che dare la parola ad Adel Javar, che presenterà il relatore di oggi. Buon lavoro. Grazie Roberto e buon tardo pomeriggio a tutte e tutti per essere qui insieme a noi su questa piattaforma che ormai come associazione Art ci siamo abituati a condurre alcuni degli eventi tramite questo mezzo. Un ringraziamento particolare ad Olivier Robiella, come lo posso definire? Un amico di anni, insomma di confronti sul tema dell'intercultura che ci ha fatto incontrare e quindi in questo periodo quando abbiamo cominciato a ragionare su questo itinerario per individuare relatrici e relatori e quindi sono riuscito in qualche modo tramite conoscenze comuni a risalire ai contatti di Olivier. Per cui sono assolutamente contento di aver ripreso i contatti con lui e di poter di nuovo con il piacere immenso ascoltare il suo intervento che sicuramente ci condurrà in un mondo musicale che lui ha coltivato e coltiva con passione e interesse soprattutto con un particolare impegno civile. Oliviero Robiella, il cuniamo può ingannarci ma è bergamasco invece, non è piemontese e quindi è di Bergamo e ha avuto il diploma di chitarra classica del Conservatorio di Mantua e poi ha avuto, quindi davvero sono tanti i titoli io adesso cerco di non elencare tutti i titoli che Oliviero ha raggiunto insomma in un suo lungo e appassionato viaggio nei mondi della musica e ha avuto anche un diploma triennale al centro educazione musicale di base di Milano insegnante associato presso IGAM in educazione musicale del bambino da 0 a 6 anni secondo la music learning theory di Edwan Gordon è una cosa anche che mi ha incurisito e si occupa anche di musica e gravidanza la voce, il suono e la musica nella preparazione al parto e alla nascita poi magari Oliviero ci racconterà anche qualcosa su questo aspetto qua perché credo che il primo contatto interculturale avviene tramite il feto e la mamma da 30 anni lavoro nel campo della didattica, della musica e pedagogia musicale sperimentando vari linguaggi oltre a quello musicale il teatro, le arti visive e coreotiche studiando la continua e plastica interazione uomo e musica lavoro nel campo della musica, della comparazione etnomusicologica della relazione uomo-musica e intercultura nell'ambito che confina con la musica e terapia consapevole dell'approccio antropologico e globale che l'uomo ha nell'approccio alla musica quindi Oliviero ha davvero tanta produzione sia in termini di pubblicazione di CD, 20 produzione musicali oltre a libri, partiture, articoli in Italia e all'estero è pluristrumentista e cantante quindi saremo anche curiosi di ascoltarti e cantare oltre a farci ascoltare la musica Oliviero non so se ha una richiesta impegnativa è presidente e fondatore nel Bergamaschia di varie associazioni musicali svolge intense attività affinché la musica divenga patrimonio di crescita individuale e collettiva e trasversale a tutte le classi sociali edita a livello nazionale per le più importanti case editrice di didattica musicale nazionale Progetti Sonori nel settembre 2016 il sussidio per gli insegnanti giocando a fare musica tra infanzia e primaria collaboro con l'associazione Proteo di Lombardia in corsi permanenti di formazione riguardanti l'educazione musicale per gli insegnanti di scuole di infanzia, nidi e primaria io spero di aver Oliviero mi perdoni se ho lasciato qualche cosa perché non volevo abusare del tempo delle persone che sono già entrati e sono più interessati ad ascoltare il tuo contributo che la mia voce che elenca i tuoi titoli e i medagli che hai avuto in questi anni grazie Oliviero ti ringrazio, vi ringrazio, ringrazio Roberto ringrazio Adele e niente al di là dei titoli che sono molto relativi vorrei introdurre questa nostra questo nostro incontro con uno scritto cercherò forse di stringerlo ma questo preambolo è troppo importante perché è un po' il momento fondativo in cui ho capito alcune cose riguardanti la musica quindi perdonatemi se leggo e poi magari salto perché effettivamente è un po' lunghetto buongiorno per prima cosa vorrei dirvi che sono che non sono così abituato a vestire le vesti di relatore e che avrò bisogno di parlare leggere un po' all'inizio fare quello che si dice essere un cappello introduttivo sono un educatore musicale lavoro con varie fasce d'età soprattutto con i più piccoli e credo nell'importanza dell'educazione musicale è supportata peraltro oggi da recenti ricerche che ne caratterizzano la sua centralità nella formazione dell'essere umano riguardo al continente latinoamericano le mie saranno forzatamente delle piccole pillole piccole suggestioni anche incoerenti non ci sarà nulla di organico gli ascolti che vi proporrò avranno un carattere prettamente di musica acustica perché io mi rifaccio a questa dimensione che per me è una dimensione umana è stato un ritornare a passione e ricordi infantili fondativi di tutto il mio lavoro e per questo ringrazio Adele ringrazio Roberto di avermi chiesto questo difficilissimo per me lavoro di sintetizzare e ci ho provato io sono appunto soprattutto un cantante e soprattutto chitarrista oltre ad aver lavorato con molti oggetti sonori nella mia vita e c'è il proprio maggiore insegnamento che ho ricevuto dai miei ascolti ossessivi cioè un bagaglio di oggetti sonori anche semplici e poveri che hanno fatto e fanno l'educazione musicale di molte genti inoltre gli esempi che vi porterò vedranno il mio strumento principale spesso al centro in quanto compagno millenario della voce umana in questi ascolti troveremo una spettacolarità a volte a cui non siamo più abituati in quanto i musicisti che suonano strumenti acustici devono avere un'attenzione una concentrazione un dosaggio dei gesti corporei molto diversa dagli artisti che fanno altri generi e che io non giudico ma facciamo cose diverse questo è importantissimo ribadirlo altra cosa che ho scoperto che sapevo da anni nella ricerca dei video e magari invito qualcuno di voi a farlo è che se io digito all'algoritmo e chiedo di trovarmi la musica popolare che non so italiana trovo delle cose particolari se invece digito utilizzando la parola musica etnica trovo tutt'altro panorama sonoro quindi già le terminologie ne parlavamo prima soprattutto con Adele che è il suo campo d'azione sono importantissime in ambito musicale non ancora così chiare prima però di cominciare a introdurre il lato fondativo mi sembrava giusto riprenderle la definizione di arte e artificio perché mi sembra importante nella nostra serata artificio uso dell'arte per ottenere fini determinati quindi abilità maestria nell'operare oppure espediente trovato con arte per raggiungere un migliore effetto per creare un'illusione per far apparire più bella una cosa quindi astuzia stratagemma fino però all'inganno allora per introdurre il discorso devo come vi dicevo sopra per forza di farmi alla mia infanzia perché noi abbiamo avuto sulla sfortuna di altri la fortuna di incontrare un grande gruppo latinoamericano almeno quello che io considero un grande gruppo esoli in Italia scampato a Pinochet sto parlando dei tanto amati e odiati interlimani nome altissonante in ambito sudamericano quasi da sbeffeggiare o ridicolizzare in ambito italiano il nostro incontro vuole sì parlare di intercoltura e con loro ci ficchiamo in un discorso che però è paradigmatico me ne sono accorto in questi quasi 40 anni di insegnamento musicale di quanto lo sfaccello riguardante l'educazione musicale ci riguardi da vicino generalizzando in America Latina abbiamo un elevato senso musicale ed estetico molto esteso tra la popolazione e il senso del fatto della musica come bene comune nel nostro paese che ha perso molto della sua memoria musicale è difficile pensare che un continente intero lavori invece continuamente nel solco dalla propria quindi tutto ciò ci sembra strano inoltre c'è la disabitudine di pensare all'autore come anche a un musicista sempre in America Latina generalizzando perché un sacco di spazzatura ci arriva anche a Dali abbiamo un elevato senso morale nell'accadimento musicale una trasmissibilità del linguaggio spesso legato all'oralità si ritiene che l'educazione musicale abbia un valore in sé estetico ed identità locale o nazionale molto forte e alto insomma nel far musica si può costruire un panorama di valori condivisi quell'identità che l'Italia così ricca aveva e che oggi spesso manca un processo di integrazione tra classi popolari e accademie che in gran parte non è mai avvenuto e fa sì che la cultura musicale diffusa non goda per niente di buona salute anzi ci sia una certa desertificazione come abbiamo detto ed ignoranza nel comprendere i gesti artistici intesi come prassi e lavoro quotidiano lo studio scientifico e il serio degli idiomi musicali nostrani è decisamente lontano oggi dal nostro sentire tutto ciò è anche normale ma se non abbiamo in gran parte coltivato la nostra identità qualunque narrazione sonora più potente avvolgente oserei dire nostri occhi e poi orecchie più trionfante occuperà lo spazio lasciato dalla nostra cultura grandissimi compositori e direttori d'orchestra latinoamericani si sono dedicati allo studio serio della propria musica popolare e questo fa la differenza con la nostra accademia che è sempre stata spocchiosa o comunque ignorante di tutto ciò io sto generalizzando però sono fenomeni diversi la nostra musica popolare è stata spesso ridicolizzata in folklore termine usato l'italiana nei paesi anglosassoni è parola molto importante il folk o utilizzata solo a fini politici durante il fascismo per esempio o negli anni caldi delle lotte politiche mai usato in forma estetica quella estetica che crea senso identità l'educazione musicale fuori di fatto dal programma educativo del nostro sistema scolastico sto parlando in particolar modo fino alla fine della scuola primaria periodo potentissimo per poter avere un assorbimento musicale che poi la biologia non ci darà più quindi è questo arco di tempo in cui il nostro cervello è al massimo della potenza per imparare i linguaggi e noi interveniamo ne parlavamo prima col maestro Satta interveniamo dopo questo è è stato così ed è sempre così in altri paesi invece ne hanno fatto la loro filosofia innovazione con grande successo da ogni punto di vista migliore empatia e circolazione di energia positiva tra gli esseri umani per esempio in ambito scolastico miglior apprendimento nelle altre materie miglior tenuta e legami sociali più forti minore abbandono scolastico per arrivare ai vertici quindi professione artistica anche di altissimo livello mi rifaccio per esempio al programma ministeriale di Abreu in Venezuela dove c'è una grande riforma un grande investimento di soldi per fare educazione musicale diffusa vorrei ora andare avanti salto alcune parti tornando al gruppo cileno che io ho seguito studiando chitarra classica come ho seguito anche altri compositori e autori latinoamericani bene avevo undici anni e il fatto che i militari si scatenassero contro gli artisti fino ad ucciderli parlo di Vitor Cara per esempio mi diede l'idea anche se bambino che l'arma culturale musicale e musicale fosse potentissima e io di quella mi volevo attrezzare Pablo Neruda il grande poeta moriva pochi giorni dopo e non si è mai chiarito del tutto il come gli intilimani fecero un po' di successo fuori dall'industria discografica ci fu l'inizio della simpatia e solidarietà umana che poi si tradusse da parte di alcuni artisti in voga in un linciaggio linguistico con dei risvolti secondo me razzisti e provinciali era così strano che uno dei gruppi musicali migliori del panorama latinoamericano e mondiale inventori loro malgrado della cosiddetta world music vivesse in Italia e sapesse suonare e cantare ad essere un tale orizzonte di fantasia poesia conoscenza abilità musicali così lontani spesso dal bagaglio di nostri molti artisti attenzione questo bagaglio musicale spesso l'industria discografica non lo chiedeva ai nostri artisti quindi già questo la dice lunga era l'Italia dove c'erano per fare alcuni esempi simili ai nostri intilimani altri gruppi artisti come nuova compagnia di canto popolare tantissime altre realtà del sud c'erano i milanesi Stormi Six c'erano gli Aria c'era il gruppo Polchi Internazionale c'era il nuovo canzoniero italiano c'era tutto il rock progressivo quindi tutta gente che suonava davvero che finito il movimentismo politico fu messa da parte dall'industria discografica l'industria discografica che aveva spesso ai vertici ma sono dichiarazioni di questi anni televisive anche molto ingenue e innocenti fatte anche da persone che conducono queste trasmissioni che vanno molto per la maggiore che non capivano nulla di musica quindi immaginate i vertici aziendali so della RCA persone che di musica non hanno mai visto uno strumento non hanno mai cantato una nota non hanno mai suonato uno strumento musicale erano ai vertici aziendali comunque il noccio della questione divenne pian piano la seguente non si poteva permettere che un gruppo non di matrice anglosassone o tutt'al più italiano cantasse suonasse bene o male avessero testi inconcludenti o qualunquisti cioè questo gruppo avesse un po' di interesse e successo c'era da parte anche dei nostri artisti secondo me che ero piccolino però lo sentivo un po' di invidia personale e vi faccio l'esempio che poi sarà il primo video che vedremo i nostri in Tilimania suonato in giro per il mondo con grandissimi artisti il video che vedrete è un video in cui loro con una loro composizione suonano con John Williams che non è il compositore di Star Wars ma è l'omologo grandissimo chitarrista forse è considerato il più grande chitarrista ancora vivente John Williams e Paco Pegna altro grandissimo questi due grandi chitarristi hanno suonato fatto concerti con gli in Tilimani se fossero stati così scarsi secondo voi secondo me avrebbero suonato due grandi artisti e mettendo repentaglio la loro fama la loro appunto il loro successo suonando con delle persone scarse no hanno suonato gli in Tilimani con tantissime orchestre sinfoniche hanno suonato con la Verdi a Milano il mito 4-5 anni fa Horacio Salinas il compositore e direttore artistico è stato per anni il primo chitarrista voce tipo frontman ok dell'America Latina dove si mangia panna e chitarra quindi forse il loro mestiere un po' lo sapevano e lo sanno fare questo provincialismo culturale loro l'hanno vissuto soprattutto in Italia fuori sono considerati un gruppo un grande gruppo musicale tutto qua dalla fortissima impronta identitaria hanno creato qualcosa che prima non c'era o non era proprio così quindi già questo la dice l'unico forse il merito più grosso degli in Tilimani è stata quella di aver riunito una strumentazione una poetica latinoamericana la più completa di tutti i grandi artisti latinoamericani hanno preso strumenti a corde da tutto il continente strumenti a fiato da tutto il continente fisarmonica pianoforte ultimamente c'è di tutto ci sono piccole percussioni di origine africana o percussioni di origine latina hanno musicato come i grandi altri artisti dell'Argentina del Brasile del Messico Cuba i più grandi poeti latinoamericani il mio racconto parte da questo momento fondativo facendovi ascoltare un primo loro brano ho capito a fondo la loro lezione peraltro perché spesso la loro lezione insieme ad altri mi sono servite per il mio lavoro coi bambini per esempio da anni faccio costruire dei flauti di pan tipici delle Ande ma è tipico anche della Bergamasca e del Lecchese perché lungo il corso dell'Adda noi abbiamo delle vere bande di paese dove suonano i flauti di pan quindi c'è questa analogia io faccio costruire questi flauti di pan perfettamente intonati nella primaria e li usiamo per il progetto appunto educativo che facciamo insieme li facciamo costruire in coppia quindi ogni bambino costruisce uno strumento da quattro canne che andrà a incastrarsi con lo strumento che suoneranno col compagno e quindi la musica che eseguiamo diventa anche un gioco di entrare e uscire un gioco di ruolo importantissimo per l'attenzione questa secondo me è la vera forza creatrice dell'arte cioè di lavorare con i grandi artisti che stanno sulla tua spalla e ispirare i più piccoli questa è la grande forza della musica tradizionale che fa la differenza vedere oggi cosa potrebbe essere utile dalle grandi tradizioni musicali nate tra gente che non frequentavano in conservatorio ma da sempre ambivano a creare musica a modo loro in piena libertà questa è la lezione cioè che cosa facevano i popoli cosa fanno da sempre li ho osservati con i miei limiti e mi hanno dato un sacco di spunti ho preso spunti dalla mia preparazione accademica ma hanno preso tantissima da chi di musica doveva fare di necessità virtù perché con i piccoli si fa esattamente questo volevo dirvi solo l'ultima cosa riguardo gli inti poi ci sentiamo un loro primo pezzo nessuno si è accorto ma alle olimpiade di Torino una medaglia d'oro di pattinaggio artistico non ricordo la coppia ma credo di nazionalità russa venne vinta con la colonna sonora di un brano degli inti limani ricordo ancora la telecronica del giornalista che era stato rapito e travolto dal brano che accompagnava la performance il brano che sentirete ora è appunto un brano di loro composizione dalla fine degli anni 80 ho scelto questo anche c'è una grande produzione dei loro video di miglior qualità ma qua li vediamo all'opera anche con questi due grandissimi chitarristi e volevo che ci fosse questa insomma completezza nella loro orchestrazione spesso veniva utilizzato il charango strumento che quando ero giovanissimo mi ero divertito a suonare bene il charango è il diretto discendente per esempio delle viuele che è una grande famiglia di strumenti a corda spagnoli che sono andate a finire direttamente in america latina e che mi ritrovai a studiare nel esame di storia mi ritrovai esattamente a studiare la viuele del cinquecento accordata esattamente esattamente come il charango che se qualcuno si ricorda veniva costruito prima con l'armadillo che è questo animale che ha un carapace che si può piegare adesso l'armadillo per fortuna protetto lo si costruisce in legno chiedo quindi con grande piacere a Roberto se può mandare il primo video bene il brano è ricchissimo ricchissimo di suggestioni anche europee una grandissima ricchezza timbrica per esempio in questo brano viene utilizzato anche un santur che è una specie di cimbalum turco quindi c'è uno sconfinamento anche il prossimo brano che sentiremo rimaniamo ancora con un gruppo più piccolo degli inti e poi li lasciamo ma l'ho preso per fare questo passaggio graduale e in questo caso è un brano di matrice colta che però trattata questo valse di Antonio Lauro un grandissimo compositore venezuelano che si rifà molto anche alla musica venezuelana che trattato in un certo modo diventa continua a assumere sia un carattere colto sia un carattere più popolare diciamo nel senso alto del termine nella musica che avete ascoltato prima visto che mi si chiedeva anche nella traccia su cui abbiamo lavorato nella musica per esempio del Cile del Sud America del Sud Sud c'è tantissimo ancora del patrimonio ritmico spagnolo e quindi si usa tantissimo la emioglia una battuta particolare dove c'è un passaggio continuo da un metro in tre al passaggio a un metro in due e viceversa in modo molto naturale e normale niente possiamo passare direttamente al video numero due avete visto le maracas che sono strumenti di origine africana avete suonato in modo magistrale da uno dei componenti degli inti limani che peraltro era il primo flauto dell'orchestra venezuelana di una grandissima orchestra venezuelana però si divertiva a sonare le maracas in questo modo nella ripetizione più veloce del brano è stato utilizzato anche il 4 venezuelano che è un altro strumento che ci arriva direttamente dalla Spagna con il prossimo video andiamo in un altro mare di musica in un continente pazzesco anche dal punto di vista linguistico che è il Brasile con un grande artista poliedico in grado di sintetizzare moltissimi linguaggi dal folklore al jazz questo brano che ho scelto è di Milton Nascimento e quindi andiamo alla forma canzone però sentirete che complessità per questo brano mi ricordo avevo addirittura letto un trattato che in questi giorni ho cercato ma non ho più trovato quindi guardo una canzone le influenze soprattutto per quanto riguarda l'aspetto dell'accompagnamento questo Milton Nascimento aveva preso da tantissime Adele magari mi tira all'orecchio poi me le tira però da tantissime piccole etnie che hanno tutta una particolarità ritmica è una samba in tre quarti molto inusuale nel brano viene suonato non lo vedrete perché ho scelto di farvi sentire la registrazione del disco perché le versioni poi seguenti lui le arricchisce anche troppo invece volevo farvi sentire il suono originario del 1967 e si usa anche il cavacchino che è uno strumento a corde tipico del Brasile che nessuno avrebbe se non in Brasile così ascoltato in verità si tratta della chitarra portoghese che in questo caso appunto i portoghesi portano in Brasile e viene chiamato cavacchino non so se la pronuncia è esatta la cosa interessante è questa per dirvi come lo stesso oggetto in mani diverse ha importanza diversa perché fa parte del nostro discorso a metà dell'ottocento una nave portoghese traccò le Hawaii e gli indigeni presero a suonare il cavacchino che chiamarono però ukulele che vuol dire in lingua locale strumento a corda siccome poi le Hawaii sono diventate uno degli stati dell'America degli Stati Uniti l'ukulele ha avuto un grande successo il cavacchino meno questo per dirvi che lo stesso oggetto in aree diverse hanno poi storie diverse quindi il terzo pezzo è una canzone ed è intitolato Cravo e Canela altro brano l'ho scelto tra centinaia di video eccezionali che ci sono sempre in ambito brasiliano in Brasile è veramente una quantità di artisti incredibile incredibile poi per me chitarrista è un universo da esplorare continuamente io so fare nulla l'ho scelto per l'eccezionale interplay quindi quando l'avevo scoperto questo brano perché mi diceva tantissimo questa canzone l'interprete tra i due grandi musicisti che sono Gilberto Gil che per esempio in Brasile è poi diventato ministro della cultura poi non so cosa abbia combinato con ministro della cultura però hanno scelto un musicista come ministro della cultura e Tuchinho che aveva avuto successo anche in Italia perché anche in Brasile con la dittatura molti molti artisti stettero un po' di anni o in Francia o in Italia vedete l'estrema naturalezza di suonare a questo livello perché vi assicuro che è un livello altissimo e anche del cantare a questo livello peraltro è un brano in composizione loro e di Vinicius dei Morales grandissimo poeta sentite come la lingua si ha già suono e si sia portata con sé la musica cioè la musica è la diretta conseguenza della sonorità della lingua in questo poeta è bravissimo nel trovare i suoni perché vengano stirati approcciati in questo modo suo dente in questo caso si parla di mare di ozio di amore di sapere vivere come spesso sanno fare i brasiliani Itapoa è una importantissima o meglio era una bellissima spiaggia di Bahia centro nevralgico peraltro della cultura brasiliana in cui arrivavano anche gli schiavi e quindi lì è nata tutta una veramente una commistione incredibile di musica quindi adesso ci sentiamo ci ascoltiamo il quarto brano che è Tarde em Itapoa bene con il prossimo brano rimaniamo ancora in in Brasile piano piano ci spostiamo su un piano di canzone poi vedrete andremo da un'altra parte ho scelto questo brano perché è una forma di sincretismo culturale quindi le due grandi diciamo lingue le più diffuse comunque in America Latina oggi che sono spagnole e portoghese si incontrano in questo in questo video dei grandissimi artisti brasiliani in questo caso Milton Nascimento Cicco Buarque d'Olanda Caetano Valoso e Gal Costa incontrano Mercedes Sosa la grandissima cantante argentina scomparsa da non molto e cantano insieme in spagnolo una canzone di Violetta Parra Volvera Los Dissassiet dovete pensare che Violetta Parra è stata una grandissima antissignana della musica folclorica nel senso alto del termine come tantissimi altri artisti e ricercatori in tutta l'America Latina dovete pensare che negli anni 40 e 50 l'emissione musicale nelle radio era prettamente nordamericana quindi c'era appunto come succede ancora oggi di fatto c'era una cultura che cerca di predominare per questione mercato per tante ragioni ed altri che cercano di resistere se vuoi Roberto lancio io il link così ok già partito perfetto bene rimaniamo ancora in Brasile ma cambiamo completamente atmosfera volevo farvi notare in questi video soprattutto negli ultimi due i sorrisi che si regalano i cantanti gli artisti c'è tutta una gestualità che c'è chi la studia che fa sì che spesso gli artisti siano da tramite tra la terra e il cielo quindi li ho scelti anche per questo bellissimo per questa immagine distesa che loro hanno tra di loro a me piaceva tantissimo questa cosa e sono dei nomi enormi il prossimo brano è un nolodum l'olodum è interessante questa storia l'olodum è un gruppo ritmico da non confondersi con la samba l'olodum appunto è un insieme ritmico è il nome di una grandissima band ritmica di Salvador De Bahia però voglio raccontarvi questa storia perché è molto importante l'olodum è un nome di origine Yoruba quindi dell'Africa è un insieme appunto di percussioni tradizionali motore sonoro del carnevale di Bahia la tradizione però non è non è continuata nei secoli si era interrotta l'olodum rinasce nel 79 rinasce attraverso la creazione di un'associazione culturale per aiutare i bambini e le famiglie indigenze del luogo nel quartiere di Pelurigno o Pelo nome che viene da palo dove si legavano i condannati alla flagellazione cioè gli schiavi che arrivavano a Salvador De Bahia in questo quartiere venivano quelli che si rivoltavano quelli che davano da filo da torcere agli schiavisti venivano legati al palo che scappava che fuggiva in prossimità di questo palo nel largo du Pelurigno conosciuto anche come Prassa José de Alensar venivano messi all'asta gli schiavi in queste occasioni ballano anche i capoerista scusate non è facile la musicalità afro degli Holodun basata per lo più su percussioni nasce dalla fusione creativa originale tra samba reggae l'ixia un sacco di altri ritmi ok che adesso sentirete la cosa interessante è che è un video didattico di una scuola di Holodun l'Holodun diventato grande gruppo ha creato a Salvador De Bahia tantissime scuole di strada peraltro perché provano in strada dove tutti ballano andatevi a vedere un po' di di video e quindi niente hanno rilanciato questa tradizione a Salvador De Bahia di grandi gruppi di percussioni per esempio questo brano questo video in particolare l'ho fatto l'ho utilizzato a scuola ho spiegato ai miei ragazzi le diverse ritmiche e abbiamo costruito una nuova scenografia utilizzando degli strumenti scolastici ed è stato un lavoro bellissimo quindi chiedo gentilmente sempre a Roberto se lancia il sesto video quindi Holodun spiegazione della poliritmia della stratificazione dei ritmi un altro un altro momento di cultura brasiliana la capoera che è un'arte marziale veniva praticata dagli schiavi perché si rimanesse in buona salute e ci si potesse senza armi in qualche occasione rivoltare c'è un tantissimo legato alla capoera e a tutte le rivolte dei afro brasiliani che cercavano di fuggire per secoli per secoli è stata resa illegale quindi chi praticava quest'arte marziale lo faceva di nascosto e dopo aver abolito la schiavitù nel 1888 in Brasile quindi non è una cosa è ancora abbastanza recente tutto sommato la abolizione della schiavitù in Brasile piano piano dai borghi di Bahia e da un sacco di altre città brasiliane dove ci sono maggioranze anche appunto di afro brasiliani viene ripresa e ripraticata per questo motivo ho scelto dei filmati molto tra i più vecchi che si riescono a trovare su YouTube quindi qua c'è una carellata di maestri di fotografie e di movenze di questa che è diventata dal 2014 patrimonio immateriale dell'umanità da parte dell'UNESCO e dal 74 è riconosciuta come sport nazionale brasiliano quindi adesso vediamo appunto capoera di Angola perché l'origine è comunque africana bene questo video era lungo l'ho lasciato lungo apposta per vedere qual è la nostra tenuta in un ambito di musica rituale questa è ritualità quindi la musica esternamente ripetitiva con la sua struttura gli strumenti utilizzati sono piccole percussioni e il birimbao che è uno degli strumenti più antichi che l'uomo abbia inventato perché discende direttamente dall'arco per andare a cacciare saltiamo il prossimo video in modo tale di andare su qualcosa di più ancora diciamo tribale originale diciamo originario e parliamo della santeria un secondo della santeria che è una è un culto una filosofia che si pratica a Cuba e ha a che fare anche con il candombra e brasiliano e il voodoo di Haiti è introdotto dagli schiavi africani ve la faccio brevissimo e la cosa incredibile che appunto queste pratiche religiose e filosofiche sono hanno resistito hanno resistito e avevo letto una cosa molto bella che adesso mi piacerebbe dirvi velocemente nel nord america dove i colonizzatori erano protestanti la conversione degli schiavi avvenne in maniera più netta invece questo studioso dice nelle zone in mano a spagnoli e portoghesi invece la storia è diversa costretti a battezzarsi e ad accogliere la religione cattolica di fatto gli schiavi africani sovrappongono le proprie divinità e i santi e i santi cattolici creando una sorta di cattolicesimo politeista dissimulando di fatto una conversione che non è mai avvenuta ok e così ancora oggi molti riti cubani quindi ci andiamo a vedere questo breve se non ricordo male filmato di santeria una dimensione ancora completamente diversa dal punto di vista sonoro quindi al 9 bene è discutibile mettere un rito come la santeria in un video così spettacolare però era uno dei pochi a disposizione dove si potevano vedere il personaggio principale che è la danzatrice fare dei gesti anche se appunto un po' così edulcorati non so come dire per stare nei tempi gli ultimi due video che chiedo a Roberto di mandare tutti e due uno dietro l'altro il 12 e il 13 prima però questa piccola introduzione non volevo lasciare da parte i nativi americani quindi le avevo messi in questa parte finale ho scelto questi due filmati del ministro della cultura del Venezuela per la valorizzazione delle culture indigene volevo ci fosse una carrellata di volti di esseri umani dei popoli nativi di alcune popolazioni venezuela che ci guardano e ci riguardano ho voluto portarvi pian piano alle origini dei suoni della musica stessa con strumenti che noi consideriamo primitivi l'uomo che canta e suona però è consapevole del suo ruolo sulla terra che considera sua madre il secondo infatti è un'invocazione quella che viene chiamata paciamama quindi con questi due brevi video vi saluto e sono poi aperto alla parte finale del nostro incontro con questa consapevolezza di questi popoli nativi vi voglio salutare e ringraziare dell'attenzione quindi il 12 sono due popoli del Venezuela il 12 e il 13 grazie ecco grazie della splendida carrellata Olivero di esempio musicale di nozione su questo mondo che è veramente affascinante e splendido nella sua politicità e veramente sicuramente ci sarebbero volute tantissime conferenze solo per alcuni di questi aspetti però già ci ha abierto la finestra su questo su tanti aspetti che forse non basta una vita per conoscerli tutti comunque io voglio dire a tutti che il livello artistico appunto in altri stili di questi esempi musicali da musicista di formazione italiana e classica è altissima come dicevo Olivero lo posso confermare in un inequivocabilmente e una cosa anche che vorrei dire a tutti che spedirò farò spedire tutti i link anche quelli non ascoltati che sono sicuramente delle berle che possono illuminarci su questo mondo immenso musicale che è l'America Latina e che è una commissione di tantissime culture musicali e di vita di tanta vita che hanno tutti questi musicisti questi interpreti questi compositori questi improvvisatori e anche proprio un mondo che ha un fascino per me profano devo dire proprio da questo mondo dell'America Latina che è stato a me molto abbagante grazie ancora direi anche al pubblico che sembra inserire le domande te ringrazio anch'io molto per questo viaggio davvero ricco di volti di suoni di storie di pensiero di meditazione e quindi di ritualità di incroci infatti hai sottolineato molto bene anche alcune strumentazioni musicali che si trovano nel bergamasco intorno all'Ada come sono presenti anche in altre tradizioni musicali così come l'incroci soprattutto nella musica sacra o musica rituale che sono assolutamente presenti visibili ascoltabili questi incroci questi intrecci questa che vedi chiamata la pratica di connessioni che è presente soprattutto nella produzione musicale artistica in generale per cui davvero ti sono grato e sono anche consapevole delle sforze che hai fatto di esplorare un territorio culturale vasto e anche una storia assolutamente spaziose da questo punto di vista e però sei riuscito anche a darci una sintesi particolarmente efficace sono curioso intanto di ringraziare anche chi ha seguito questo tuo intervento e quindi vorrei ringraziare tutte le partecipanti che hanno insomma donato una parte del loro tempo per partecipare con noi a questo itinerario l'abbiamo chiamata incroceni e tu hai fatto bene perché è stata un intervento da questo punto di vista molto pertinente al nostro tema quella di incrociare i saperi che hanno attraversato l'uceeni fondamentalmente quindi la cosiddetta afro america latina è il prodotto di questi attraversamenti infatti questo nostro quindi veramente ti ringrazio perché inaugurare un percorso che è di parte di 10 appuntamenti 5 appuntamenti sono legati al continente afro america latino e 5 appuntamenti andremo verso la Cina e Giappone con cui abbiamo avuto un po' di familiarità nell'edizione precedente quindi questi 10 appuntamenti si svolgeranno ogni da ora fino a dicembre in pratica ogni venerdì alle stesse ora e il prossimo incontro della musica passeremo alle pagine alla letteratura dove avremo un scrittore editore uruguayano che vive tra Uruguay e Italia e l'Italia è un particolare modo molto attivo a Milano Milton Fernandez insieme c'è stato un cambiamento insieme non è più Adriano Bravi in base al programma ma c'è stato un scambio di data verrà invece scrittrice ma anche docente di letteratura in Brasile però lei Italo e Svizzera quindi abbiamo veramente da questo punto di vista una figura importante la Prisca Agustoni e che sarà insieme a Milton Fernandez a parlare di insomma di ponti letterari come i ponti musicali i sonori che ci ha donato Oliviero avremo pagine che costruiscono ponti io avrei anche il piacere di sentire le domande i commenti delle partecipanti inizio io con una domanda molto così una curiosità rispetto gli strumenti musicali che sono stati utilizzati nel penultimo Oliviero nell'ultimo brano delle etnie carigna del finzuela c'erano oltre strumento fiato c'era una corda particolare un altro che mi sembrava una mandipola di qualche animale mi sembrava sì allora abbiamo sbagliato nel lancio io avevo chiesto di mandare il 12 il 13 quello in verità è l'11 e appartiene alla cultura messicana la danza dello spazio c'era scritto sì ma non c'è stato nessun problema che e lì ci sono un sacco anche di assonanze con la cultura europea avevamo una armonica bocca e una quajida che è la mascella di cavallo o di asino che fatta essiccare sottoterra poi viene spolpata dai microorganismi ben spolpata ben essiccata lavata poi in acqua bollente diventa un bellissimo strumento percussione perché i denti della mandibola potendo muoversi colpendo la mandibola fa un suono lungo tremolante e quindi questo questo però era messicano erano culture indigene messicane l'altro strumento allora sai che non mi ricordo dovrei vedere il video non mi ricordo non un po' non dell'ultima dell'ultima forse aspetta perché non mi ricordo esattamente cioè mi sfugge il video ho visto aspetta che vado a vederlo un secondo e vi dico subito ok se non sbaglio perché io non potevo sapere i quali video stesse vedendo però l'asturas quindi stai parlando di quello della comunità l'asturas utilizzano dei semplicissime maracas di semi e usano un flauto traverso che gli arriva dall'Europa e gli indigeni hanno ricostruito in modo locale e quindi c'è questo pa 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 sempre sempre uguale ma necessario per la danza o per altre ritualità grazie oliviero dal tipo non c'è nel video ma dal tipo di suono è un flauto attraverso che in Venezuela si trova di legno ce ne sono tantissimi tipi ecco una scusami una lezione che ci arriva è che ogni popolo si inventa la propria musica e i propri strumenti quindi è un continuo adattamento rispetto all'omologazione culturale che a volte viviamo i popoli nativi comunque ai margini della cultura di massa si fanno gli affari loro scusate il termine quindi si inventano o mantengono qualcosa che è più fantasioso e questo dovrebbe essere per noi educatori sempre stare attenti su questo perché è una ricchezza che se andiamo a perdere poi è dura allora colgo l'occasione per chiederti allora questi questi paesaggi musicali che ci hai fatto vedere sono presenti nell'educazione musicale nelle scuole musicali in che modo sono presenti nella produzione culturale musicale nei paesi che tu hai preso in esame rispetto ai paesi di origine scusami sì paesi d'origine sì chiaro scusami non ho non ho capito esattamente questi paesaggi musicali che ci hai fatto vedere no sì questi stili musicali queste tradizioni musicali in che modo sono presenti nella produzione culturale nell'educazione scolastica ti dicevo per esempio molti paesi latinoamericani hanno una come diceva Roberto all'inizio prima di iniziare la trasmissione la nostra formazione è spesso solo accademica e diciamo più che dire cosa c'è in America Latina cosa manca in Italia proprio questo tassello un tassello pedagogico per cui riportare i grandi tecnici che ci sono nel conservatorio cioè noi facciamo un studio molto tecnico però lasciamo a volte la naturalità da parte capito è un po' quello che diceva Roberto anche quando ho intervenuto dicendo io sono un pianista classico ma anche io sono un chitarrista classico per fortuna che ho studiato molta chitarra latinoamericana dove il linguaggio è molto più plastico è molto più liquido e quindi la differenza che c'è tra nell'interlocuire con qualcuno tra leggere un libro e parlare io posso interlocuire con qualcuno parlando se devo interlocuire con qualcuno leggendo devo andare a prendere quella cosa che vorrei dire alla pagina tot e diventa tutto molto più difficile adesso l'ho portato agli estremi in america latina questa diffusione sto generalizzando della sensibilità musicale l'ho detto all'inizio è enorme nella società quindi intere comunità interi quartieri vivono sopravvivono spesso legati anche solo a un indice musicale cioè quella cosa li aiuta a essere comunità e quindi ci stanno molto attenti a non perderla e di fatto nell'accademia latinoamericana questa cosa è rientrata un brano che non vi ho fatto sentire un brano creolo per esempio cubano che è una canzone cubana che uno dei più grandi compositori per chitarra ha trattato e l'ha fatta diventare un'opera d'arte ancora più più particolare quindi ecco l'ho detto anche all'inizio molti compositori latinoamericani di molti strumenti io conosco soprattutto quelli per chitarra ma hanno sempre orecchiato ma molto in strada la musica tradizionale quindi si sono autoalimentate le cose quindi a livello accademico non si ha problemi a sentire una modalità sonora che invece nei nostri teatri potrebbe essere va bene non è stile non è pulita non è così l'elemento tradizionale è un elemento anche sporco che in ambito educativo è necessario perché l'esecuzione dei nostri ragazzi i nostri bambini sarà comunque molto simile a quello che le persone nei secoli hanno praticato in musica perché si parte da una dimensione orale e quindi questa diffusione dell'oralità anche nell'accademia è molto più facile questo c'è anche nell'America del Nord anche negli Stati Uniti c'è l'oralità del far musica continuo a alimentare il linguaggio il linguaggio è plastico quando poi invece viene preso in mano dall'industria a volte viene impacchettato e viene fossilizzato invece la catena di montaggio la catena di montaggio esattamente invece quando sì Oliviero poi io spero che ci siano altre domande altri interventi e altri commenti però mi è venuta adesso in mente che non hai preso in considerazione il tango non l'ho preso perché ho fatto questo gioco di sottrazione e le forme erano tantissime no no ma ho pensato anche al tango ma ma se io vado a vedere anche solo l'argentina l'argentina o perché il tango è una quantità di forme musicali pazzesche perché il tango non volevo che ingenerasse nel poco tempo che avevamo questa come altre forme questa questo non capirsi questo non capirsi perché il tango per esempio è diventato una forma in Italia giustamente di danza come il cia 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 come altre cose più consumistiche anche se parte anche il tango da una forma estremamente complessa dove soprattutto le comunità bianche lì in ambito urbano ecco non ho curato molto l'ambito urbano il tango è soprattutto ambito urbano o suburbano invece piano piano vi ho voluto portare nelle campagne bene ho capito il tuo pensiero dietro al tango che si è inserito dentro la società delle distrazioni no? sì peccato perché invece ha dei valori enormi ha una qualità artistica altissima compositiva pensiamo solo ad Astor Piazzolla però se vi avessi fatto sentire qualcosa di Astor Piazzolla cioè comunque l'avreste già sentito talmente un compositore affermato e conosciuto che è stata dura è stata dura fare una scelta ero in crisi perché dicevo tra me oddio come faccio a fare sintesi sei stato straordinario eccellente allora io vorrei dare la piattaforma a questo punto a qualche altra voce io di nomi che vedo conosco Mariella Natale ti saluto poi c'era un'altra nostra amica musicista insegnante che non vede più il suo nome e gli altri sono tutti i volti nomi i volti non vedo insomma siamo scurati i volti giustamente allora non lo so vedo il volto di Paola Corio non so se buonasera buonasera io sono di Torino e volevo ringraziarvi perché veramente un'occasione molto molto importante l'ho acchiappata al volo ho avuto questa notizia di questo corso da una persona e ho deciso appunto di aggregare possiamo sapere sono sì è il mio maestro di percussioni che si chiama Gilson Silveira che farà l'incorso sì sì Gilson sarà un nostro relatore siamo più avanti sull'universo musicale brasiliano bene grazie però io poi vabbè a parte questo ma ho una formazione in storia della musica sono un appassionata di Brasile di America Latina da sempre quindi non mi sono gettata subito ho scritto e vi ringrazio molto questa prima puntata è stata veramente molto interessante anche la carrellata di pezzi scelti per gli ascolti era una roba veramente spettacolare grazie grazie a lei grazie a Paola io ho frequentato a lungo Torino bene bene allora è quasi un gemellaggio ho insegnato fino a prima delle pandemie comunicazione interculturale insomma ah benissimo grazie allora ci rivedremo grazie a lei alla prossima vedo un altro volto attento Federica ha voglia di dire qualcosa Federica prego ecco scusate ogni tanto mi va via la connessione buonasera vi ringrazio anch'io io sono suono l'arpa sono una docente di arpa dove per me è stato dove insegna a Bolzano a Bolzano quindi a Bolzano sono fiorentina in realtà sono benissimo vengo da Firenze ma sono a Bolzano da qualche anno adesso e è interessantissimo per me perché cioè pensando in un'ottica anche di di poter applicare queste esperienze al mio strumento avevo già un po' iniziato qualche anno fa alla scuola di musica di Fiesole dove c'era un docente americano sudamericano però non mi ricordo il nome e mi interessa come proprio come dire esplorare queste cose che per me sono lo devo ammettere un po' nuove quindi è doppiamente interessante ecco se posso ho scartato tantissimi video di arpa l'arpa in America Latina di ogni forma perché spesso sono forme più arcaiche rispetto all'arpa orchestrale ma la nostra non mi ricordo il nome che ha parlato ora comunque Federica saprà benissimo ma c'è una quantità di produzione per arpa in moltissimi paesi latinoamericane che è incredibile incredibile come molti suonino all'orecchio e già questo per noi che siamo prego prego hanno una tecnica particolare proprio per l'arpa che è molto diversa dall'arpa classica hanno anche strumenti che sono diversi e poi hanno una tecnica proprio se dovessimo farlo noi con la nostra conoscenza sarebbe impossibile proprio ritmicamente e tecnicamente hanno una struttura proprio diversa e il repertorio effettivamente sì dell'arpa è più più arcaico più e sono adesso io non sono esperto di arpa però penso siano arpe che si sono fermate spesso al settecento fine settecento prima ottocento anche come formi quindi anche le musiche che si possono suonare però veramente delle cose bellissime di una musicalità a volte anche molto semplice ma che affascinano con un suono anche timbicamente diverso indubbiamente bene ci vediamo presto vi auguro una buona serata buona serata e se non ci sono altri interventi altri commenti altre considerazioni ci possiamo anche salutare rinnovando il nostro ringraziamento a tutte e tutti e poi un grazie buona serata ad oliviero che da Bergamo ci ha condotto verso un altro mondo tramite questa piattaforma quindi le tecnologie qualcosa di magico può offrirci insomma bene ringraziamo anche quelli che ci stanno mandando i messaggi ringraziando per cui diciamo possiamo tutti quanti augurarci di passare una buona serata arrivederci grazie 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 grazie